Cari amici, reggini, per il quarto anno di fila finalmente riusciamo a riaprire la nostra pista di pattinaggio. Siamo sempre qua in via Marina, sul lungomare Falcomatà, per cercare di portare un po' di allegria, di divertimento e di sport in questa città. La speranza è che tutti voi veniate a trovarci per pattinare e divertirsi insieme a noi. Nella nostra pista abbiamo degli istruttori qualificati che possono aiutare chi è meno pratico e chi ha un po' più di freno e di paura. Abbiamo la possibilità di fare abbonamenti, siamo aperti tutti i giorni dalle 10 di mattina a notte inoltrata, cioè fino a quando c'è gente noi siamo qua per farvi divertire. Abbiamo un servizio di bar, possiamo fare patatine, caffè, bevande, insomma un buon posto per passare mezz'ora di tranquillità insieme a qualche amico divertendosi e ovviamente pattinando su questo ghiaccio splendido che curiamo giornalmente per voi altri. Invitiamo tutti i reggini e anche quelli limitrofi dei paesi limitrofi a venire a trovarci per divertirsi insieme a noi e passare un lieto Natale. I migliori auguri a tutti!